La disabilità, affrontare il tema della disabilità vuol dire mettere in risalto il volontariato che davvero è un valore essenziale per quanto riguarda la nostra società e in particolare la società italiana che in maniera naturale da molti decenni si evidenzia proprio per il suo sforzo del volontariato in funzione di tanti direttrici, una delle quali è appunto il contrasto alla disabilità a metterla nella condizione di un sistema che non sia solo più risarcitorio ma sia proprio di partecipazione attiva di una persona che comunque è abile. Se noi riusciamo a battere, comunque avere sempre a mente ogni giorno che la disabilità è una situazione che non deve esistere dal punto di vista, prima di tutto, mentale e poi dal punto di vista delle opportunità che devono essere maggiori per chi ha delle difficoltà di disabilità, significa anche approcciare meglio tutti gli altri problemi. Se noi riusciamo a sconfiggere la disabilità è cosa che riusciremo a fare perché la nostra è una società che tende a questa situazione proprio per una questione di civiltà e di cultura storica. Io credo che poi anche le altre questioni più prettamente laiche e concrete di ogni ordine tipo si affronteranno meglio. Le questioni sono tantissime ma una in particolare su cui oggi vorremmo fare un po' più il focus la questione dei caregiver, su cui peraltro il ministro della disabilità Alessandra Locatelli ha dichiarato fin dal suo insediamento che vorrebbe un impegno particolare del suo ministero perché tante sono le famiglie che ogni giorno si fanno carico di situazioni gravissime e non possiamo permetterci che rimangano indietro.